Contro il tumore al seno e per tutte le donne che ne soffrono chiedo qualità. Qualità di cura, qualità di vita e qualità di assistenza. Voglio dare anch'io il mio contributo contro il tumore al seno per una qualità di vita migliore ed un futuro libero dalla malattia. Grazie a tutti.